Oggi volevo portare un messaggio profetico e parlare di trasformazione, cioè trasformazione, progetti e pericoli. Questo messaggio è rivolto alle persone che vogliono veramente avere un cambiamento, vogliono una vera trasformazione a livello spirituale, però che non cercano una personale ambizione. Allora, come si svolge la situazione? Quando mi è stato detto, vuoi portare un messaggio, subito Dio mi ha parlato, mi ha detto il passo di cambiare l'acqua in vino. E quindi andiamo in Giovanni al capitolo 2. Intanto dico che leggendo proprio tutto a Giovanni, mi viene in mente proprio di pensare il fatto come Gesù, anzi questo libro parla proprio di come può essere una conversione di un cristiano qualunque, perché inizia dichiarando chi è Gesù, poi passa subito alla testimonianza, cioè come una persona va a dichiarare chi è Gesù, subito dopo c'è un miracolo che è praticamente il cambio dell'acqua in vino. Quindi andiamo in Giovanni 2 e leggiamo. Tre giorni dopo si fecero delle nozze in Cana di Galilea e la madre di Gesù si trovava là. Ora anche Gesù fu invitato alle nozze con i suoi discepoli. Essendo venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse, non hanno più vino. Gesù gli disse, che cosa c'è tra me e te, o donna? L'ora mia non è ancora venuta. Sua madre disse, servi, fate tutto quello che gli vi dirà. Ora c'erano là sei recipienti di pietra usati per la purificazione dei giudei, che conteneva due o tre misure ciascuno. Gesù disse loro, riempite d'acqua i recipienti, ed essi li riempirono fino all'orlo. Poi disse ora, attingete e portate il maestro della festa, ed egli glielo portarono. E come il maestro della festa assaggiò l'acqua mutato in vino, ora egli non sapeva da dove venisse quel vino, ma bene lo sapevano i servi che avevano attinto all'acqua. Il maestro della festa chiamò lo sposo e gli disse, ogni uomo presenta all'inizio il vino migliore e dopo che gli invitati hanno compesamente bevuto il vino buono. Tu invece hai conservato il buon vino fino ad ora. Gesù fece questo inizio dei segni in canna di Galilea e manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Dopo questo egli è discesa a Capernau con la sua madre e i suoi fratelli e i suoi discepoli dei si rimasero lì pochi giorni. Allora, trasformazione dell'acqua in vino. È finito il vino, Maria va da Gesù e gli chiede di fare un miracolo, gli chiede di fare qualcosa perché cosa fa? Maria sa, mette fiducia, mette fede in Gesù sapendo che Gesù farà una trasformazione, farà qualcosa di reale, qualcosa di pratico, qualcosa di vero, non farà qualcosa di inventato, non dirà a tutti il vino l'ho comprato. Sa che Gesù andrà nello spirituale e porterà qualcosa nel naturale. Quindi cosa fa? Fa la trasformazione dell'acqua in vino. Per parafrasare, quando a me è venuta in mente la trasformazione dell'acqua in vino, mi è venuta in mente che acqua e vino sono due bevande e sono della stessa praticamente sostanza. Però cos'è che cambia? L'acqua, le funzioni che hanno, perché l'acqua serve a noi per vivere e potremmo dirla in un senso quasi metaforico, che l'acqua può essere la nostra vita, il nostro corpo, l'acqua del nostro corpo e il vino invece è una bevanda che serve per fare festa, per dare gioia e spesso e volentieri si parla di spirito, lo spirito, l'alcol, lo spirito. Quindi se noi pensiamo alla trasformazione che Gesù può fare, può trasformare un corpo in spirito, può fare qualcosa di potente, può fare qualcosa di poderoso, cioè può trasformare esseri umani come noi, uomini che hanno bisogno di necessità, cioè hanno bisogno di bere, hanno bisogno di mangiare, hanno bisogno di fare cose pratiche, hanno bisogno veramente di sopravvivere, può trasformare noi in esseri spirituali, può fare una trasformazione vera. E' per questo che lui dice a Maria, non è ancora venuto il mio momento, non è ancora venuto il momento in cui io possa fare queste cose. Mi è venuta questa rivelazione, lui dice a Maria, non è ancora il tempo per me che la gente si trasformi dall'acqua allo spirito, cioè la discesa dello spirito santo ancora non è il tempo. Questa è una manifestazione che lui vuole dare. E noi dobbiamo trasformare praticamente radicalmente noi stessi e cambiare il nostro cuore. Cosa succede? Che noi pensiamo spesso e volentieri nella nostra vita quale sono le nostre necessità naturali. Noi pensiamo al fatto che dobbiamo mangiare, pensiamo al fatto che dobbiamo andare a lavorare, pensiamo al fatto che dobbiamo comunque avere una casa dove stare. Non dico che queste cose siano sbagliate, premetto, ma dico, la nostra entità maggiore, la quella più forte, quella più radicata dentro di noi, è sempre quella naturale, quella dell'acqua, cioè il bisogno intrinseco necessario. Abbiamo sete, beviamo, abbiamo fame, mangiamo, abbiamo bisogno di uscire, usciamo. Ma quello che è la trasformazione, quello che è la vita reale, quello che praticamente ci confrontiamo ogni giorno leggendo la Bibbia, non è una trasformazione naturale. C'è il passo ammazza e mangia, però non è su quello che Dio si basa, ma anzi ricordiamo spesso e volentieri i digiuni di Gesù, le preghiera di Gesù. Noi praticamente parliamo e respiriamo dell'assenza dello Spirito di Gesù e praticamente quando noi conosciamo quali sono i frutti dello Spirito e quali sono veramente, e se andiamo a leggere in Galati 5 dal 13 al 26, noi vediamo cos'è il bisogno naturale e cos'è il bisogno spirituale. Voi infatti fratelli siete stati chiamati a una libertà, purché questa libertà non divenga un pretesto per vivere a seconda della carne, ma mediante la carità, cioè la misericordia, cioè lo Spirito, cioè quello che è l'amore di Dio, siate a servizio gli uni degli altri. Tutta la legge infatti trova la sua pienezza in un solo percetto, amerai il tuo prossimo come te stesso. L'ordine, spesso e volentieri, può essere solo una questione grammaticale, però è sempre bello pensare al fatto che comunque l'ordine di Dio era ama il Dio con tutto il tuo cuore, ama il tuo prossimo e ama te stesso. E' vero che spesso e volentieri si dice amerai il tuo prossimo parimente, cioè quindi come ami il tuo prossimo, ami te stesso e come ami te stesso il tuo prossimo. Però la logica profonda del fatto che lo Spirito, che è la trasformazione dentro di noi, deve avvenire su questa logica di amore, di misericordia. Questo è praticamente un messaggio che Dio mi ha dato alla Chiesa, ma non alla Chiesa solo locale, alla Chiesa in generale, perché la misericordia, la misericordia che deve entrare, il progetto di Dio nella nostra vita, deve essere un progetto dove lo Spirito entra, lo Spirito trasforma, la misericordia entra, la misericordia trasforma, e non si parla più di noi stessi, ma si parla di Gesù. Cioè focalizziamoci sulla realtà. E quindi andiamo al 19, dove dice Queste sono le opere della carne. Ora le opere della carne sono manifeste, sono adulterio, fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, magia, inimicizie, contese, gelosie, ire, risse, divisioni, sette, invidia, omicidio, obbriachezze, ghiottonerie, diottonerie, e cose simili a queste, circa le quali vi prevengo, come già vi ho detto prima, che coloro che fanno tali cose non erediteranno il regno di Dio. Cioè il desiderio nostro, intrinseco, è se qualcuno ha sbagliato deve pagare, né ora né mai. Cioè se qualcuno ci ha ferito deve subire la punizione. Non c'è misericordia in questo. Non c'è misericordia, non c'è i frutti dello Spirito, non c'è la pazienza, la profondità di quello che è veramente l'essenza della trasformazione. Cioè l'uomo naturale, cioè l'uomo, la persona, il desiderio di nostre, il desiderio di bere, ci fa spingere verso queste cose. Perché prima facciamo un passo verso tipo, sì vabbè ma se, che ne so, se mangio di più, se mi arrabbio va bene. Però poi cosa succede? Se arrabbi, ti arrabbi, ti arrabbi ancora, ti arrabbi ancora. Alla fine dentro di te si crea un odio, un odio verso una persona. Lo scopo nostro è spezzare profondamente quello che è il nostro io, cattivo diciamo, il nostro veramente io che vuole dire io ci sono e sono io, e deve diventare veramente come dicono tutti un Dio. E com'è diventare un Dio? Dice quali sono i frutti? Come noi dobbiamo pensare invece? Ma il frutto del spirito è amore, misericordia, è gioia, è pace, è pazienza, gentilezza, bontà, fede, massitudine, autocontrollo. Contro tali cose non vi è legge. Perché non vi è legge? Perché se tu fai del bene a uno, per quanto male lo ti possa fare, non ti può dire mai niente. Non ti potrà dire perché la cosa, ti dirà perché la smette di darmi, mi stai dando fastidio perché io continuo a trattarti male e tu mi traiti bene. Smettila, mi dà fastidio, sei irritante. Però non ti dirà nulla, non alzerà la mano contro di te, non verrà contro di te, non verrà addosso a te. Perché l'unica forza che può avvenire addosso di te è una forza che è diavolica, perché è una forza che spinge verso il basso, non verso la betitudine di Gesù. Non è una vera trasformazione. Infatti, cosa succede? Inizia la prima trasformazione, abbiamo detto. Inizia la parte dell'acqua e del vino, dell'essere naturale e dell'essere spirituale, ed entra in questa logica. Prima riconosce Gesù, poi entra nella parte della trasformazione e dopo cosa succede? Se andiamo in Giovanni 2, dal 13 al 25, succede questo. Or la Pasqua dei Giudei era vicina e Gesù salito a Geusolemme trovò nel tempio i venditori di buoi, pecore, di colombi e i cambiamonetti seduti. Fatta qui una frusta di cordicelle, li scacciò tutti fuori dal tempio insieme con buoi, pecore e sparpagliò il denaro dei cambiamonetti nel ravvisciò dei tavoli. E poi, vabbè, si sa che praticamente alla fine dice lo zelo della tua casa mi ha divorato. Questo succede. Cioè, se noi trasformiamo un po' l'idea generale del fatto che all'inizio, prima Giovanni, c'è chi era Gesù, poi c'è la predica di Giovanni Battista, poi c'è la trasformazione dell'acqua in vino e dopo c'è la purificazione del tempio. Per noi personalmente significa che prima dobbiamo riconoscere Cristo, poi successivamente dobbiamo avere una riconoscenza, riconoscere Cristo, dobbiamo avere una trasformazione e poi Gesù, quando entra, purifica. Butta via tutto. Fuori tutti. Fuori i cambiammonetti, fuori i venditori, fuori quelli che trattano, fuori i nostri sentimenti che tentano di trattare con noi, nel senso che noi spesso e volentieri cerchiamo di essere, se non svogliati, comunque a essere molto, molto tolleranti verso la nostra parte che non va bene, dicendo, sì, ma dai, il problema non c'è, siamo tutti buoni, così. Ma non è questo, perché Gesù spesso e volentieri taglia la parola di netto e Paolo faceva anche peggio. Spesso e volentieri. Perché non è sul fatto della miserabilità della persona che noi ci appoggiamo, ma sul fatto che noi stiamo glorificando giorno per giorno la statura di Cristo. Quindi, adesso, di al tuo vicino, prendi un vicino, prendilo di peso, e digli, e digli, chi si deve trasformare, o cosa si deve trasformare? chi si deve trasformare? Ditemi, qualcuno alzi la mano, chi si deve... ok, quindi ci siamo capiti che non è i giovani, la società, il mondo deve cambiare. Ci siamo capiti su questa cosa? Cioè, spesso e volentieri diciamo, no, questa società deve essere una nuova società. No, i politici devono cambiare. la società è corrotta. Io, spesso e volentieri, chi si deve trasformare, a cosa si deve trasformare? Siamo noi che dobbiamo trasformare. Siamo noi. Noi siamo il centro del mondo, del nostro mondo. Cioè, quando io penso a come Dio può mai vedere il mondo, noi non vediamo un globo terrestre, vede milioni di persone e milioni di interazioni. Cioè, guarda, quando in Isaia lui dice chi manderò, chi andrà per me, lui non stava guardando all'universo, lui stava guardando ogni singola persona nel raggio del cosmo della Terra e guardando singolarmente ogni singolo cuore, ogni singola interazione, lui ha detto io sto cercando una persona che vada per me. Cioè, pensate quanto, pensate a tutte le milioni di persone che sono nel mondo e pensate a quanto lui scruta nella profondità, nell'essere umano e va oltre ogni cosa, va il tuo cuore, va il mio cuore, va il vostro cuore, il cuore di ciascuno di noi in profondità, in profondità. Lui non va per classe, non dice la classe dirigente deve cambiare o la classe dirigente o la classe degli angeli deve cambiare o la classe politica deve cambiare. Lui non dice questo, lui dice metti dobbiamo cambiare perché quando noi parliamo di rapporto a persone con Dio, che cosa parliamo? Parliamo di metti, parliamo che le scelte che noi facciamo giornalmente possono influenzare le persone che sono intorno a noi, molto più profondamente di quanto pensiamo. pensiamo che il nostro scopo non è cambiare il mondo, ma è cambiare una persona alla volta. Spesso e volentieri è più profondo far nascere un fiore, far nascere una piccola pianticella che diventa un grande albero, piuttosto di iniziare a piantare una foresta. Perché lo sviluppo naturale di Dio non è nella nella devastazione, cioè nella esagerazione dei termini, ma spesso e volentieri lui fa soffia, cioè fa qualcosa di semplice e aspetta, aspetta perché lui è eterno e noi dobbiamo entrare in questa ottica che dobbiamo entrare nell'eternità di Dio. Cioè perché noi ci vediamo oggi e diciamo siamo cinque, porca miseria, e domani saremo cinque e dopodomani saremo ancora cinque e forse anche dopo dopomani saremo cinque, ma investi, investi in quei cinque, scruta i loro problemi, scruta le loro situazioni, chiedi a ciascuno di loro cosa ne pensano della loro vita, della della cosa. Cioè io ho visto persone evangelizzare una persona, non milioni di persone, però su quelli lì si sono dati l'anima e hanno fatto sempre cambiamenti. Conosciamo le famose testimonianze di grandi predicatori che avevano una persona che gli ha parlato di Dio per strada una volta e che si conosceva quella persona aveva pregato per convertire una persona perché la sua fede era per una persona. La nostra trasformazione, il nostro cambiamento dell'acqua in vino, dell'essere umano dall'essere umano all'essere spirituale avviene avviene nelle piccole cose, nelle scelte giuste che facciamo, nel non arrabbiarci, nel non trasportarci all'ira, di non essere ghiotti, di perseverare nella preghiera, di perseverare nella parola. Perché dice Dio siate fedeli nelle piccole cose perché io vi darò delle maggiori? Per un motivo molto basilare perché non ti può dare una camionata d'oro se non sai neanche gestire 5 euro. Sono cose standard, sono preconcetti. Noi non diamo ai figli o ai figli che avremo o qualunque altra cosa milioni di euro. Mi ricordo quando mio papà mi ha regalato 50 euro e ho speso 25 in videogiochi tipo andavo lì in macchinetta. Quando è tornato su mi ha detto hai speso 15 euro 25 euro in videogiochi così. Per due minuti è rimasto così e tra poco me ne stavo pure dando. perché comunque la gestione del nostro chiamiamolo ministerio cioè tradotto del nostro servizio in Dio nella chiesa ma non nella chiesa locale nella chiesa spirituale ma anche nella chiesa locale è derivato dalla nostra capacità uno di fede due di sbattimento perché non c'è altra soluzione materiale fisica di quanta voglia abbiamo di dire ok impegno il mio martedì impegno il mio mercoledì impegno il mio giovedì e così via a livello di sbattimento e due anche di 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 profonda di profonda no sbattimento perché l'impegno è solo la volontà è così lo sbattimento è proprio quando anche se sei esausto devi continuare a tartassare te stesso e andare avanti devi sbattere il chiodo finché è caldo prima o poi ce lo terrai e poi di grande di grande desiderio della conoscenza della parola di Dio non è qualcosa di facile andare avanti andare avanti e avere fede fede che Dio farà le cose Dio provvederà Dio cosa cioè mi veniva in mente la storia di Giobbe ma quando io parlo della storia di Giobbe parlo di un uomo che che comunque cioè lui continuava a lamentarsi con Dio non smettere non smettere di dialogare con Dio non smettere di parlare con Dio non smettere di piuttosto tormentarlo delle tue pene ma non smettere così perché il diavolo gode del fatto che noi non comunichiamo con il nostro padre cioè lui ci vuole rendere miserabili ci vuole rendere così tanto acqua che non abbiamo più vino da dare né a noi né agli altri bisogna essere una fonte di vita una fonte di cioè il vino cosa faceva il vino è spirito dove si usa il vino nelle feste quando c'è gioia quando quando tutte le persone le persone si raccolgono insieme e bevono vino cosa succede non bevono solo acqua bevono vino perché lo spirito lo spirito di Dio porta gioia e porta unità porta insieme e su questo principio noi che noi come chiesa dobbiamo continuare a puntare a puntare sullo spirito di Dio sull'ascolto della voce di Dio ma non solo sull'ascolto ma proprio sulla trasformazione di noi stessi dobbiamo leggere la parola confrontarci pregare ricevere da Dio e andare avanti e su questa trasformazione io voglio leggere Giovanni 3 perché questo è il progetto di Dio perché quando parlavo di trasformazione dicevo progetti questo è il progetto di Dio progetto 1 conoscermi progetto 2 trasformarti progetto 3 unire persone e andare a impattare pulizia del tempio pulizia del cuore e impattare nella tua vita nel tuo piccolo nella tua preghiera quotidiana ma quante persone quante persone hanno risvegliato continenti solo pregando tutti i giorni la mattina alle 7 sì ma anche morendo fra 10 anni lo faranno non ti preoccupare noi non conosciamo noi non conosciamo Dio non possiamo permetterci di dire come Dio agisce la nostra fede lui chiede la nostra fede lui chiede la nostra fede cioè il miracolo della donna che perdeva sangue è un atto di fede non è certo che succedeva chi l'ha detto cioè vabbè che Gesù era Gesù ma il fatto che lei si sia alzata si è andata a prendere la veste che qualcosa si è uscito da lui non è che Gesù è andato ha preso la mano l'ha alzata di peso l'ha spostata adesso ti sciega un po' e magari lo spirito di Dio lei è andata è la nostra fede è la nostra forza interiore è il nostro coraggio di dire signore ti prego padre ti prego fai scendere qualcosa spirituale nella nostra vita fai trasformare il posto dove sono la vita dove sono qualcosa di profondo chiesa veramente risveglia il tuo animo risveglia il tuo senso i tuoi dite il tuo fatto andiamo a Giovanni 3 c'è tanto da legge or c'era tra i farisei un uomo di nome Nicodemo un capo dei giudei questi venne a Gesù di notte e gli disse maestro noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio perché nessuno può fare i segni che tu fai se Dio non è con lui Gesù gli rispose e disse in verità in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio Nicodemo gli disse come può un uomo nascere quando è vecchio può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere Gesù gli rispose in verità in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua o di spirito non può entrare nel regno di Dio ciò che è nato dalla carne è carne ma ciò che è nato dallo spirito è spirito non meravigliarti se ti ho detto dovete nascere di nuovo il vento soffia dove vuole e tu ne odi il suono ma non sai da dove viene né da dove va così è per chiunque è nato dallo spirito Nicodemo rispondendo gli disse come possono accadere queste cose Gesù gli rispose e gli disse tu sei il dottore di Israele e non sai queste cose in verità in verità ti dico che noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo di ciò che abbiamo visto ma voi non accettate la nostra testimonianza se vi ho parlato di cose terrene e non credete come credereste se vi parlo di cose celesti or nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo cioè il figlio dell'uomo che è nel cielo e come Mosè innalzò il serpente nel deserto così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato affinché chiunque creda in lui non perisca ma abbia vita eterna perché Dio ha tanto armato il mondo che ha dato il suo genito figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna Dio infatti non ha mandato il proprio figlio nel mondo per condannare il mondo ma affinché il mondo si è salvato per mezzo di lui chi crede in lui non è condannato ma chi non crede è già condannato perché non ha creduto nel nome dell'ungentito figlio di Dio ora il giudizio è questo ora il giudizio è questo la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce perché le loro opere sono malvagie infatti chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce affinché le sue opere non siano riprovate ma chi pratica la verità viene alla luce affinché le sue opere siano manifestate perché sono fatte in Dio il progetto abbiamo detto che era questo questo è il pericolo il pericolo è questo il pericolo è essere come nel film ho visto stavo parlando un attimo con di film con Rebecca e parlavamo di quanto Davide e Valeria di film e parlavamo di quanto era bello risvegli risvegli è la storia praticamente di questi qua che sono praticamente in catalessi o in coma sono vivi vegeti mangiano fanno così ma hanno bisogno del sostegno delle persone prendono la pasticca si riescono a risvegliare ma poi piano piano il cervello inizia a rigenerare di nuovo e non riescono più cosa succede? è che il pericolo della trasformazione è proprio essere come questi questi qua dell'ospedale del film perché cosa succede? tu riconosci Dio vieni trasformato vieni cambiato ma entri in uno stadio di cataressi percepisci le cose del mondo hai conoscenza del mondo ma il tuo spirito non è attivo perché cosa è successo? è successo che la legge la legge cioè tu ti sei imposto delle regole tu ti sei imposto che la Bibbia deve essere un determinato schema logico un determinato schema mentale hai deciso che tutti gli altri devono aderire a quello schema se sbagliano se loro non la pensano come te stanno sbagliando entri in questo schema praticamente dove io ho ragione tu torto non c'è nessuno non c'è nessuna e inizi a fare piano piano la terra bruciata intorno a te il problema è maggiore che spesso e volentieri il primo che fai fuori è sempre Gesù perché se Dio ti vuole cambiare il tuo pensiero ma tu sei entrato in quella mentalità dove dici tu sei un dottore della legge e non conosci queste cose ma perché Nicodemo non conosceva queste cose? perché Nicodemo non conosceva? non le conosceva perché lo spirito di Dio lo spirito c'è la comunione con Dio non era ancora entrato in lui lui aveva letto aveva studiato di Gesù aveva studiato della parola dell'antico testamento aveva studiato di Mosè aveva studiato aveva studiato tanto e tanto e tanto ma non aveva ancora compreso quello che c'era oltre la legge cioè la grazia cioè quello che molti altri avevano già compreso la fede quindi non bisogna entrare bisogna uscire dai nostri schemi religiosi ed entrare nella trasformazione totale di Dio nella trasformazione piena di Dio e iniziare a avere un rapporto con Dio così profondo che Dio ci rivela le cose personalmente e ci rivela prima le cose terrene e poi le cose celesti e qui voglio dire chiesa veramente qui bisogna iniziare a aprire le orecchie stappare il cerume iniziare a vedere con gli occhi dello spirito iniziare veramente a volare perché perché per troppo tempo noi siamo stati veramente come quelli del film siamo stati svegli ma in verità siamo velli siamo gente che vive nella totale proprio coma perché siamo svegli capiamo cosa succede nel mondo ma non riusciamo a fare qualcosa di profondo perché non abbiamo non abbiamo la totalità la conoscenza di quello che Dio vuole fare mi dico quando quando uno mi viene e mi dice qual è il sistema migliore per guarigione qual è il sistema migliore per fare chiesa qual è il sistema migliore per fare evangelizzare qual è il sistema top illuminare così io ho girato un po' nelle chiese non dico che sono stato un milione di cose però ho visto che alla fine è quasi tutto tutto il mondo è paese perché tutti hanno da dire qual è il loro sistema personalizzato migliore cioè la soluzione finale quale problema vi risolverà tutto fate così e state tranquilli che andrete a mille in verità l'unico veramente consiglio che ho sentito è quando voi volete guarire una persona ascoltate come Dio la vuole guarire già quello farebbe molto differenza già se ascoltate Dio vi assicuro che la guarigione arriva da 1% a 2% quello già già aiuta perché comunque cosa succede cosa cosa faccio quando tipo e questa è proprio la testimonianza personale quando io voglio guarire una persona e voglio fare qualcosa vado da lì davanti e dico signore cosa vuoi fare ma non è una cosa cattiva cioè puoi spendere 10 minuti di più per fare qualcosa che è la volontà di Dio perché quanti miracoli sono identici con Gesù cioè quante cose quanti è lo schema predefinito per parlare alle folle qual è lo schema perfetto il sermone sul monte o la donna che gli ha parlato davanti al polso c'è uno schema preciso se ne Gesù se nessuno degli apostoli se nessuno dei discepoli ha mai fatto questo perché noi cerchiamo degli schemi cerchiamo la schema del successo ma la schema del successo è quella che ci dà Gesù ce lo dà Gesù per noi ma dobbiamo farlo insieme dobbiamo farlo come un corpo dobbiamo pregare insieme perché perché io posso avere la idea ma pregando insieme io e te la facciamo diventare reale perché lo schema che è è nella mente di Dio però cosa preghiamo noi Signore veramente che la tua volontà sia fatta come è fatta nel cielo sia fatta qui sulla terra perché c'è questa preghiera all'inizio proprio quasi all'inizio perché praticamente Dio ha tantissimi milioni di progetti ma noi dobbiamo prendere quei progetti quelle idee e farle diventare pratica farle diventare reali trasformare quello che è l'acqua in vino trasformare far passare tutto attraverso la croce perché praticamente il cambiamento il cambiamento che Dio ha portato Gesù ha portato un cambiamento così radicale che non si può pensare differentemente infatti su questo dico qual è il più grande cambiamento che la storia ha mai avuto è proprio in Marco 15 la morte di Gesù e al mattino presto i capi dei sacerdoti con gli anziani gli iscrivi e tutto il sinedo ottenuto il consiglio legarono a Gesù lo portarono via e lo consegnarono a Pilato e Pilato gli domandò sei tu il re dei giudei ed egli rispondendo gli disse tu lo dici e i capi dei sacerdoti lo accusavano di molte cose ma egli non rispondeva nulla Pilato lo interrogò di nuovo dicendo non rispondi nulla vedi di quante cose ti accusano ma Gesù non rispose più nulla tanto che Pilato ne rimase meravigliato ora ad ogni festa era solito rilasciare loro un prigioniero chiunque essi chiedessero vi era allora in prigione un tale chiamato Barabba insieme a tutti i compagni ribelli i quali avevano commesso un omicidio durante una sommossa e la folla gridando cominciò a domandare che facesse come aveva sempre fatto per loro allora Pilato rispose loro dicendo volete che vi liberi il re dei giudei perché sapeva che i capi dei sacerdoti glielo avevano consegnato per invidia ma i capi dei sacerdoti incitarono a folla a chiedere piuttosto che liberassi loro Barabba allora e poi sappiamo che praticamente viene consegnato e cosciessione e altre cose allora cosa succede praticamente questo fa sempre parte della trasformazione fa sempre parte del fatto che noi come persone alla fine alla fine della fiera ce li possiamo mandare 90.000 messaggi 40.000 lettori della Bibbia ma alla fine il nostro desiderio è di scostare la faccia di Gesù lo possiamo dire in 12 lingue differenti lo possiamo dire ma non è il nostro punto focale io sto bene grazie io sto bene la mia famiglia sta bene gli amici stanno bene tutti stanno bene non è non è non è così cioè quando 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 Gesù parla dice della della preghiera dice non chiedete le vostre cose perché Dio le conosce già chiedete le cose di Dio cioè quando quando io prego quando io così gli insegnamenti che piano piano ho ascoltato i consigli che ho ascoltato sono quelli che mi sono andati più profondamente ringraziamo il famoso Dio vuole che noi ringraziamo piuttosto che chiedere quanto l'ho usato e quanto mi è stato utile perché le grazie a Dio il grazie profondo a Dio è proprio una lode a Dio ed è una cosa che praticamente Dio ambisce di più perché lui lo sa lo sa che hai fame lo sa che non hai un lavoro lo sa sa tutto sa tutto sa tutto di queste cose non può non può dire me ne frega non può dire così perché lo sa può consolarti può consolare e una cosa in giunta che voglio aggiungere non diamo giustificazioni quello che quello che ho perso questo lavoro perché il famoso ho perso il lavoro perché Dio mi voleva insegnare perché Dio ho perso il lavoro cioè l'insegnamento sempre profondo è uno non devi non devi perdere il lavoro per averlo non è bello perdere il lavoro perché tu devi imparare l'umiltà o non è bello perché devi imparare il fatto che devi stare con Dio devi stare con Dio prima e devi stare con Dio quando hai perso il lavoro e devi stare con Dio quando lo riprendi punto non è su questa base non è non è un Dio di ricatti non ti ricatta basta non ti sta non ti sta dicendo adesso tu marcirai nel dolore profondo per capire quanto Dio è buono perché ti rialzerà quando sarai morto praticamente ti dovrà risuscitare no no basta 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 veramente troppa gente trova giustificazioni perché noi continuiamo a formare Dio umano perché noi abbiamo bisogno di giustificazione siamo come dei bambini abbiamo di sapere abbiamo il perché innato perché 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 l'acqua è calda perché infetosi perché perché la domanda non è come perché noi abbiamo il perché innato dobbiamo sempre chiedere per tutto Dio perché per come per quando la risposta che Giobbe ricevette dal consiglio del terzo non fu il perché io ho parlato con Satana e Satana è venuto e mi ha detto che ti dovevo tentare così ha detto tu sai sai come hai fatto l'aria cielo sai come hai fatto il verde del mare sai come sono fatti così lui dice tu le cose non le puoi sapere non puoi sapere che combattimenti nell'aria dello spirito ci sono non puoi sapere che magari qualche demano non puoi sapere che ti è arrivata una macumba da chissà quale cattivo uomo sulla terra non puoi sapere nulla di queste cose a Paolo la mia grazia ti basti c'ho una spina nella carne il signore togli la mia grazia ti basta I like you mi piaci molto perché non cerchiamo i perché spesso e volentieri non ci sono i veri perché ci sono la maturità spirituale che noi dobbiamo avere quando noi rispondiamo ai perché della vita quando cresciamo e viviamo con le nostre esperienze la nostra capacità con la nostra capacità con la nostra maturità spirituale dopo capiamo cosa ah si vabbè e poi quando insegniamo agli altri sembra tutto più facile dopo gente che ha vissuto nella miseria per anni dopo eh si ma tanto adesso che stiamo bene intanto però i giorni prima era così per terra per terra sdraiante tipo signore perché a me è nella è nella è nella maturità è nella costanza è nella fede è nella trasformazione vivente e qual è l'ultimo cioè qual è il passo finale qual è il famoso premio che anche Michele oggi pregava e mi diceva noi puntiamo verso il premio non puntiamo verso il premio e dicevo mazza oggi Dio vuole proprio parlare su questo e alla fine cos'è che ha trasformato la società cos'è che ha trasformato il mondo la morte di Gesù ma nella morte nella morte di Gesù come era studiato come era fatta come era come succedeva è un fallimento umanamento una persona che muore non cambia la nazione non fa niente è un fallimento rendiamoci conto di questo cioè noi prendiamo la morte di Gesù come il più grande cambiamento della storia ma radicalmente e verosimilmente una persona che muore non fa nulla nella società tranne che evangelizzare 12 discepoli cioè discipolare 12 persone 12 discepoli 12 persone è un fallimento alla fine non si conclude niente ma perché cos'era qual era lo suo scopo era cambiare la nazione cambiare così il suo scopo era morire morire e rinascere cioè pensiamo al fatto che lo scopo finale nostro è morire e rinascere o anche fare cose più diverse cioè capiamo bene qual è il nostro scopo perché se il nostro scopo nella nostra vita è una persona non dobbiamo essere ambiziosi per quello dicevo quando vogliamo noi trasformare non dobbiamo avere un'ambizione cioè l'ambizione è giusta nel momento in cui tu sei in linea con Dio cioè la tua linea il tuo focus è quello di Dio tu vai avanti lotti per quello che credi vai con lo scopo in avanti continui a avere fede e muori muori e puoi avere non quello che vuoi perché alla fine i 12 discepoli sono stati sono stati sparpagliati quindi i discepoli che dovevano essere tra virgolette quelli conquistatori sono dovuti prima rientrare quindi nella tua morte può esserci fallimento della tua vita naturale ma non ci sarà ve lo dico io non ci sarà mai fallimento della tua vita spirituale perché non dipende da noi non dipende da noi dipende da Dio cioè noi moriamo e torniamo polvere eravamo e polvere ritorniamo ma il spirito di Dio ha legge e conosce ogni cosa ed è sempre così quindi dobbiamo prendere noi stessi buttarci a mare veramente nel senso che il nostro io interiore il nostro io interiore la nostra carne quello che sono le nostre nemicizie le nostre cupidigie dobbiamo proprio dimenticare questo dobbiamo puntare verso lo spirito di Dio e dobbiamo veramente se c'è qualche cosa che nel nostro cuore ci affligge qualche cosa che veramente ancora siamo veramente i raconti che non riusciamo a perdonare dobbiamo andare e togliere veramente togliere tutto quello che è l'amarezza interiore tutto quello che ci separa dalla gloria di Dio della morte del nostro io dalla morte di quello che è l'uomo naturale Gesù doveva morire perché cosa succedeva? che la morte naturale diventava spirituale perché lui poi si era un uomo glorificato di spirito c'è sempre una trasformazione c'è sempre un cambiamento ultimissimissime cose e poi vi lascio la gioia a me viene in mente ultima questa è proprio una battuta mi viene in mente tipo immaginate un povero scarafaggio che cammina nella cucina così allora lo scopo del povero scarafaggio che cammina in cucina è fare quattro cose uscire di buio trovare da mangiare riprodursi riprodursi e tornare a Natana così per fino a quando tutta la sua vita e magari essere mangiato anche da qualcos'altro non so che mangiare gli scarafaggi però e quindi cosa succede? lo scarafaggio tu passi per casa lo trovi per strada lo trovi per la cucina un povero così e questa è la sua fine lui ha fatto quattro cose doveva fare mangiare dormire riprodursi e mangiare se noi pensiamo che questo è il nostro solo scopo nella vita mangiare e riprodursi così siamo come lo scarafaggio né di più né di meno ma se noi pensiamo invece che noi siamo come il figlio di Dio che il nostro scopo è la trasformazione di noi stessi la trasformazione così e la nostra anima spirituale la nostra anima celeste è quella che deve andare in cielo quindi più siamo glorificati più nel cielo ci saremo noi con la nostra fuoco con il nostro sentimento con il nostro ardere con il nostro sentimento puro lì saremo noi lì saremo dove c'è il figlio di Dio non saremo lo scarafaggio schiacciato non saremo il verme della terra non saremo la polvere che deve disperdersi saremo profondamente il figlio di Dio il corpo glorificato e Dio per sempre quindi il mio incoraggiamento di oggi chiesa non fermarti non stoppare la tua corsa non non tergiversare sul fatto che tanti ministri si comportano male o tante persone si comportano male chiedi te stesso e a te stesso solamente cosa io sto facendo per me e per gli altri per il mio cuore e per il mio cielo personale